Inauguriamo questa rassegna qui nello splendido contesto di Bacoli, questa nostra rassegna dal vivo perché noi nasciamo come canale YouTube e dopo il Covid abbiamo iniziato a fare questi incontri. La inauguriamo con un tema che non avevamo mai affrontato prima e lo affrontiamo in grande stile questa sera e vi spiegheremo tra poco il perché. Parleremo di Pasolini, Pierpaolo Pasolini, un caso mai chiuso. Lo faremo con il libro, con questo libro edito da Round Robin e lo faremo con l'autore Stefano Maccioni. Ma chi è Stefano Maccioni e chi dobbiamo ringraziare per essere qui stasera ve lo dirà Marcello Altamura. Grazie. Grazie. Allora innanzitutto buonasera, bentrovati. Stefano Maccioni è un avvocato ed è l'artifice della sempre crescente attenzione e soprattutto del fatto che non si siano spenti i riflettori sul caso Pasolini. Se a quasi 50 anni di distanza dall'omicidio del poeta avvenuto l'1 novembre del 1975 si cercano ancora elementi per raggiungere la verità, beh, gran parte del merito è anche di Stefano Maccioni. Allora, è proprio, noi infatti abbiamo, siamo voluti partire su questo tema che, di cui appunto come diceva Gianluca non avevamo mai parlato, prima dell'esistenza di Darkside che appunto esiste ormai dal 2020 ma nella versione, diciamo, nel format dal vivo esiste da due anni. Io sono particolarmente contento di portare il format Tabacoli e devo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale, nella persona del Presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco che è un amico, nel Sindaco Giosi della Ragione che probabilmente ci raggiungerà più tardi. Devo ringraziare la cooperativa Tre Foglie che gestisce questa magnifica struttura del Parco Cerillo per l'accoglienza, la splendida accoglienza, per la disponibilità con cui ci ha accolti. Devo ringraziare la libreria Il Punto di Partenza che ha allestito un book corner lì, quindi dopo l'incontro se volete acquistare il libro di Stefano Maccioni potete farlo e l'autore sarà a disposizione per il firmacopie come da prassi. Allora entriamo nel vivo di questo incontro e partiamo da, prima di introdurci e di iniziare il nostro viaggio, nel caso Pasolini, nell'omicidio Pasolini, noi abbiamo intitolato questa serata non a caso il poeta massacrato viaggio nell'omicidio Pasolini. Ti chiedo Stefano, l'impulso, la molla che ti ha spinto ad occuparti dell'omicidio Pasolini, quale è stata? Sì, buonasera a tutti, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, ringrazio il Comune di Bacoli e anche la presentazione che è stata fatta. Mi fa molto piacere che questa sera ci siano presenti tanti giovani perché parleremo di cold case, il cold case è il caso freddo, lo avranno visto in tante serie televisive quando si vanno a riaffrontare i casi. Perché mi sono occupato del caso Pasolini? Mi sono avvicinato al caso Pasolini, all'omicidio Pasolini nel 2008 prendendolo proprio come un cold case. Mi sono avvicinato insieme a una criminologa, Simona Ruffini, abbiamo preso le carte, però come avvocato, siccome ho questa tendenza a partire dalle sentenze, sono partito dalla sentenza di primo grado. Sentenza di primo grado emessa, si diceva prima, da Carlo Alfredo Moro, presidente del Tribunale per i minorenni, che quale presidente del Tribunale per i minorenni aveva già compreso immediatamente che quell'omicidio, per come era stato realizzato, per le lesioni inferte a Pierpaolo Pasolini non poteva essere stato eseguito soltanto da una persona, infatti condanna Pino Pelosi insieme ad altri ignoti. Ora, io non so quanti di voi qui presenti conoscono l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, come è avvenuto, le motivazioni. Penso che tanti giovani non lo conoscano, conoscono magari un caso molto più vicino del quale mi sono occupato, che è la morte di Stefano Cucchi. Quello sicuramente sì, perché è più vicino a loro e magari sono più interessati ad una vicenda a loro più vicina temporalmente. Relegando magari Pasolini al 1975 si parla di preistoria. In realtà non è preistoria e a noi serve molto scoprire il passato, perché senza un passato non si riesce a capire nemmeno che cosa sta accadendo oggi politicamente. L'omicidio Pasolini io lo colloco a pieno titolo in un omicidio politico, lo dico subito. Si arriva a un omicidio politico attraverso vari passaggi, ma andiamo con ordine. Nel 2008 inizia a studiare il caso, dicevo parto da una sentenza, lo scrivo anche nel libro I vari passaggi, parto da una sentenza che è una sentenza di primo grado e vedo subito che ci sono delle anomalie enormi. Non tanto in quella sentenza, quanto nella sentenza successiva, quella di appello. Guardate, voi dovete comprendere soltanto una cosa. Il Tg delle 20, nel 2 novembre 1975, parla soltanto dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini non è una figura qualunque. Lo sapete perfettamente chi ha studiato soprattutto lettere, ma chi ha fatto cinematografia. È un grande poeta, è poeta, è intellettuale, è regista, è pittore, addirittura musicista. Per conoscere Pasolini basta sapere che cosa è accaduto lo scorso anno in Italia. Si sono festeggiati cento anni dalla nascita e tutto il territorio nazionale. Guardate, io sono venuto qui, ma avrò fatto iniziativa, oramai si contano veramente a decine e decine, da università a scuole superiori. L'ultima iniziativa che ho fatto erano le quinte, le quinte di un liceo era completamente a Salerno. Mi sono quasi commosso perché erano 300 ragazzi nella sala e 300 ragazzi che guardavano queste diapositive. C'è stato un riscontro enorme veramente di pubblico così all'interno delle università. Ora oggi, questa sera, io vedo ragazzi lì a quel tavolo. Mi dispiace non farli vedere delle diapositive perché avevo portato questo proiettore per mostrare di solito i reperti che faccio vedere e vado ora adesso a parlarvi del punto perché so che le parole stancano, le immagini sono molto più fresche e tra l'altro senza immagini non si riesce a rendere bene quello che si vuole dire. Tante volte mi stanco io a sentirmi, quindi pensate voi. Le immagini sono tutto. Si diceva prima il processo Stefano Cucchi. Chiunque si ricorda Stefano sdraiato su quel tavolo dell'obitorio. È l'immagine che rimane di quel processo è l'immagine di Stefano Fiermoli. Ecco, nell'omicidio Pasolini manca, non c'è il corpo perché non si vede. Il corpo di Pasolini è completamente massacrato tanto che la signora che il 2 novembre per prima trova quel corpo dice in dialetto romano ma guarda questi zozzoni come hanno lasciato la spazzatura. Confonde il corpo di Pasolini completamente massacrato con un sacco dell'immondizia, dice lei, un sacco della spazzatura. Quindi pensate com'era. Io non vi leggo l'autopsia. Voi nel libro leggerete anche questo perché io ho messo anche, sono partito, come tutti gli avvocati penalisti si parte dall'autopsia e dall'autopsia si capisce come venne massacrato. Questo si chiama un massacro di un poeta. Venne massacrato in un modo che non può essere massacrato così da un ragazzo di 17 anni. Perché guardate la storia dell'omicidio Pasolini consacra Pasolini come colui il quale, un pedofilo, tenta di violentare un ragazzo di 17 anni. Pasolini è uno di quei casi in cui l'omicida, la vittima diventa peggio dell'omicida. Cioè l'omicida viene giustificato. In fondo che ha fatto questo ragazzo? Si è ribellato a una sodomizzazione, a un tentativo di sodomia. Quindi ha fatto bene. In fondo, ma se l'è andata a cercare, questa era la frase di Pasolini, su Pasolini e sull'omicidio. In realtà questo noi abbiamo visto e dimostrato che non è possibile che sia accaduto. Pasolini non può essere stato ucciso da un ragazzo. Io facevo vedere anche la tavoletta che sarebbe stata utilizzata insieme ad una catena per uccidere e per compiere il delitto. E perché non è stato ucciso soltanto da questo ragazzo? Allora, a distanza di quando me ne sono occupato iniziato nel 2009 e devo ringraziare una persona importante che è il senatore Marcello Dell'Utri. Se il caso venne effettivamente riaperto, perché lo ringrazio? Perché nel marzo del 2010 io deposito l'istanza di riapertura a firma mia di Simona Ruffini, due meriti sconosciuti in quell'anno per la procura della Repubblica di Roma, la procura della Repubblica di Roma apre un fascicolo contro notizie non costituenti reati, notizia K, mettono questo fascicolo sulla scrivania e lo tengono lì fermo. Sta lì fermo nonostante che io vada a controllarlo quasi ogni giorno. Sta lì fermo per un anno. Nel marzo del 2010 il senatore Marcello Dell'Utri comunica, prima della fiera del Libro di Torino, mi hanno voluto vendere un capitolo scomparso dell'ultimo romanzo di Pasolini che si chiama Petrolio. L'onorevole Veltroni fa un'interrogazione parlamentare, il ministro allora della giustizia Alfano fa una lettera in prima pagina al procuratore capo di Roma che allora si chiamava Ferrara e chiede, non sapendo ovviamente dell'iniziativa di un singolo avvocato penalista e di una criminologa, chiede riaprite il caso Pasolini. Mi permetto di interromperti, ci spieghi perché è così importante il libro Petrolio e perché questa notizia innesca l'interesse su Pierpaolo Pasolini. Sì, semplicemente perché avevo riaperto, la mia istanza si basava su due elementi. Allora fino a quella, fino a quella, dal 2009 mai erano stati effettuati esami del DNA. Voi sapete quanto è importante il DNA? No, adesso è accaduto questo, si è verificato questo omicidio terribile di Giulia, uccisa addirittura col bambino, con un feto, io lo chiamo già bambino perché praticamente doveva solo nascere, gli è stato impedito di nascere. Quindi sapete quanto è importante la traccia del DNA? Adesso gli omicidi si risolvono col DNA, in maggior parte dei casi, il DNA, la prova scientifica è fondamentale. Allora la prima cosa che mi chiedo è ma perché dal 2009 ad oggi nell'omicidio Pasolini si sta ancora cercando di capire chi è stato ad uccidere Pasolini, e non è uno qualunque come vi dicevo, anzi, perché non sono stati mai fatti gli esami del DNA? Lo chiedo quasi con indignazione questo. Dall'altra parte esce un libro molto importante nel quale si parlava, si mettevano in correlazione tre omicidi, l'omicidio di Enrico Mattei, Enrico Mattei per chi per i più giovani era il presidente dell'ENI, l'ENI insomma era una figura di spicca, avete visto delle fiction, avete visto dei libri, avete visto dei film recentemente, era il personaggio più importante d'Italia Enrico Mattei. Enrico Mattei non muore a caso, ma viene ucciso Enrico Mattei, ma che sia stato ucciso si scopre soltanto nel 1990, quando un giudice, il giudice Vincenzo Calia, che ha collaborato tra l'altro con me successivamente negli anni successivi a questo, delle sue indagini, per nove lunghi anni raccoglie prove, raccoglie prove, raccoglie prove e scopre alla fine che quell'aereo non è caduto per caso, ma è caduto nel momento in cui, partito da Catania, gli è stata messa una carica di tritolo nel carrello, quando aprono il carrello vicino Milano che doveva atterrare, esplode in volo, un contadino vede questa esplosione, la figlia viene assunta però dall'ENI e quindi non parla più il contadino, non ha più visto l'esplosione, non se ne parla più, fino al 1990. Scompare addirittura l'audio dall'archivio della RAI di un'intervista al contadino che dice io ho visto delle scintille cadere sul mio campo, c'è la registrazione ancora negli archivi della RAI ma è priva di sonoro. Allora, More Mattei, chi prende il suo posto? Prende il suo posto Eugenio Cefis che da fonti dei servizi segreti dovrebbe essere stato colui che ha fondato la loggia massonica P2, quindi non un a caso e infatti io dico sempre se un segreto dura per lunghi anni significa che persone molto molto alte hanno interesse che il segreto rimanga. Per Pasolini sta accadendo lo stesso. E allora, Mattei viene ucciso nel 1963, successivamente nel 1970 viene ucciso Mauro De Mauro, un giornalista sempre Palermo ma a Catania scompare nel momento in cui indaga sulla morte di Enrico Mattei per il regista Vincenzo Rosi. Rosi aveva commissionato una inchiesta e aveva detto cerca di scoprire che cosa faceva Enrico Mattei, che cosa ha fatto le ultime ore in Sicilia perché Enrico Mattei era in Sicilia, a Catania. Lui stava indagando su questo scompare per l'upara bianca. Vi do un dettaglio che tanti non sanno nel processo fatto nei confronti di Totò Riina che è stato imputato della morte di Mauro De Mauro tra le tante altre cose ed è stato assolto dalla corte d'assise di Palermo la corte d'assise di Palermo scrive nelle migliaia di pagine di quella sentenza che è bellissima scrive che fu un omicidio politico ma a me interessava un altro elemento dalla casa di Mauro De Mauro scompare dalla sua libreria un faldone le carte custodite in questo faldone e sul dorso del faldone c'è scritto petrolio allora è tutta una casualità. Io sono ovviamente stato bollato come un complottista ma lo sono tutti coloro che non credono alla verità precostituita anche voi siete dei complottisti, no? Di dark side. Quindi chi non crede nella verità ma io ero un complottista anche quando si diceva che Stefano Cucchi non poteva essere stato ucciso dalla polizia penitenziaria. Tutti eravamo complottisti e allora andando avanti in questo complottismo e andando nella visione complessiva della storia Pasolini giustamente dicevi petrolio come ci è collegato in petrolio non è che Pasolini parla del niente in petrolio parla proprio di Eugenio Cefis che uccide e che elimina il suo antagonista Enrico Mattei soltanto che chiama Eugenio Cefis benevolmente con un accento troia mentre chiama Enrico Mattei come buonocore i due, Troia, elimina buonocore ma c'è di più Enrico Mattei dice Pasolini e questo inquadra poi tutto insomma devi fare una domanda tutta la vicenda di petrolio quando va a scrivere petrolio Pasolini voleva che al centro ah c'è un'anomalia enorme ora voi preparatevi perché io potrei parlare per due ore e mezzo circa tre di tutto questo vi risparmio perché non avendo nemmeno diapositive voi alzereste bandiera bianca ma l'anomalia forte è che petrolio viene pubblicato 17 anni dopo la sua morte e viene pubblicato guardate dopo che è caduto il muro di Berlino e non è un caso dopo che cade il muro di Berlino inizia Mani Pulite al 1992-93 cambia tutto in Italia e c'è la possibilità di pubblicare petrolio ma non viene pubblicato come avrebbe voluto Pasolini perché Pasolini avrebbe voluto che petrolio contenesse al centro del libro tre discorsi di Cefis che sono la bandiera della loggia massonica P2 è praticamente il manifesto della loggia massonica P2 e sono i discorsi che Eugenio Cefis fa all'Accademia di Modena prima che venga ucciso Enrico Mattei lui avrebbe voluto inserirli non vengono inseriti sono stati inseriti due di questi recentemente nell'ultima pubblicazione dopo che abbiamo fatto un convegno alla normale di Pisa quello di Walter City e allora torniamo a petrolio se non ci sono domande allora stiamo mettendo in fila tanti elementi e all'inizio si è parlato dell'omicidio Pasolini come di un omicidio politico allora io parlo per esperienza personale ho fatto studi classici e Pasolini nelle scuole viene insomma si studia in quanto poeta in quanto scrittore e tu adesso stai parlando di petrolio e stai parlando di un racconto in cifra ecco qual era l'intento di Pasolini al di là dell'aspetto letterario della sua attività chi era davvero Pierpaolo Pasolini di cosa si interessava e quali fili può aver toccato la domanda che faccio ancora più semplice è perché si interessava di Cefis e soprattutto cosa poteva aver scoperto soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita esatto ma dunque Pasolini era un intellettuale scomodo l'ho detto all'inizio era una persona che faceva ora si chiamerebbe opinion leader oppure se avesse avuto un social avrebbe avuto milioni e milioni di contatto sicuramente sarebbe stato il più grande influencer su un milione e milioni di follower sicuramente Pasolini scriveva sulla prima pagina il Corriere della Sera era il quotidiano più letto e in un'epoca in cui non c'erano i social ma c'era il Corriere della Sera c'erano i quotidiani e la televisione era all'inizio Pasolini era quello che faceva che veniva ascoltato ovviamente non diceva mai banalità anche perché rompeva gli schemi era un rivoluzionario per Antonomasi aveva rinunciato anche alla testa del Partito Comunista era uno che faceva veramente diciamo così opinione e allora Pasolini che cosa scrive scrive due articoli innanzitutto importanti oltre a petrolio e oltre secondo me al fatto di dire di scoprire effettivamente la figura di Eugenio Cefis scrive due articoli sul Corriere della Sera che sono emblematici il romanzo delle stragi e perché il processo sono articoli che chiaramente vanno interpretati vedete io l'ho detto anche al pubblico ministero se noi non ci mettiamo nel 2023 in prospettiva come se fossimo è uno sforzo che dobbiamo fare nel 1975 questo caso non verrà mai risolto perché è come vedere senza gli occhiali quando hai bisogno degli occhiali ti devi calare nella realtà perché essere nel 2023 vedi una realtà totalmente diversa da quella del 1975 se te non ti poni nel 1975 nello schieramento di fazioni che c'era di ideologie c'era un muro il muro di Berlino c'era la destra e c'era la sinistra c'erano gli Stati Uniti da una parte e c'era l'Unione Sovietica dall'altra c'erano le bombe c'era la strategia della tensione Pasolini lo dice che gli italiani volevano sapere il ruolo della CIA in Italia e le decisioni prese dal governo italiano Pasolini lo scrive nero su bianco sulle pagine del Corriere della Sera scrive che gli italiani volevano sapere che cosa ci fosse dietro la strategia della tensione ma lo scrive prima delle commissioni pellegrino che vanno ad indagare sul delitto Moro o sullo stragismo della strage di Bologna o della strage dell'italicus noi adesso facciamo finta che tutto questo non sia esistito cioè la cosa che a me che trovo aberrante avendo anche insomma dei ragazzi dei figli avendo sempre in contatto con le nuove generazioni è questa il fare finta che quegli anni in Italia non si siano verificato niente e che possiamo tranquillamente decidere di non capire chi c'è dietro il delitto Moro e questa è un'opera meritoria che state facendo chi c'è dietro la strage di Bologna perché sono avvenuti soprattutto i depistaggi perché non si è voluto mai far capire scoprire che cosa c'è dietro il delitto Pasolini allora andiamo facciamo quello che fanno adesso nelle serie televisive riavvolgiamo il nastro guardate per quelli che non conoscono il delitto altrimenti mi sentono parlare del nulla come avviene effettivamente il delitto Pasolini come Pino Pelosi avrebbe ucciso Pasolini è la sera del primo novembre del 1975 e Pierpaolo Pasolini si rega con il suo ex perché era stato un suo ex ragazzo Ninetto Davoli che poi diventerà era già famosissimo grande amore della sua vita va con Ninetto Davoli la moglie di Ninetto Davoli e il figlio al Pommodoro il ristorante Il Pommidoro che si trova a Roma ovviamente dopo esce dal ristorante Il Pommidoro sarebbe andato alla stazione Termini per cercare un ragazzo per quella serata ma le cose non tornano non tornano innanzitutto perché trova un ragazzo Pino Pelosi che non era un ragazzo che non conosceva ma lo conosceva già da mesi in quel processo però non viene fuori questo elemento e incredibilmente nessuno che è vicino a Pierpaolo Pasolini lo dice guarda che non l'ha conosciuto quella sera Pino Pelosi Pino Pelosi lo conosceva già e stava con lui da due tre mesi tra l'altro aveva una somiglianza impressionante con Ninetto Davoli un flash è tanto vero quello che dice Stefano Maccioni che addirittura Dario Bellezza nel libro Morte di Pasolini che è del 1981 correggimi se sbaglio dice di aver incontrato Dino Pedriali che era il fotografo che fotografò immortalò Pasolini nudo alla torre di Chia dicendo che Dino Pedriali gli aveva confermato che Pasolini e Pelosi si conoscevano già da tempo nel 1981 sei anni dopo l'omicidio allora l'inverosimiglianza del racconto di Pelosi è questa quindi Pelosi dice è venuto Pasolini anzi neanche dice Pasolini è venuto questo personaggio questo signore sull'Alfa GT 2000 valutate che l'Alfa GT 2000 era pari a una Ferrari di allora di adesso è venuto questo signore mi ha detto sali io sono salito e mi ha portato a un ristorante che è molto lontano da Termini perché è sull'Ostiense il Biondo Tevere mi ha portato al Biondo Tevere io avevo fame mi ha fatto mangiare spaghetti aioio e peperoncino lui aveva già mangiato quindi ha preso una birra e una banana e basta poi siamo ripartiti abbiamo fatto benzina abbiamo fatto benzina e siamo andati a 30-40 km di distanza per consumare un rapporto ora voi non siete di Roma ma sarebbe come fare penso Napoli-Salerno più o meno è inverosimile già andare all'idroscalo di Ostia per consumare un rapporto sessuale quando puoi stare a Roma tranquillamente non fare tutti quei chilometri una zona poi tra l'altro terribile perché era pieno di baracche allora abusive una zona malfamata per l'altro quindi è inverosimile che abbiamo fatto tutta questa strada un Alfa GT 2000 era pazzesco vanno sono andati lì dopodiché avrebbero consumato il rapporto scende e avrebbe reagito a questa violenza io l'ho ucciso l'ho riempito di botte mi sono difeso ho preso la macchina guidando la sua macchina tentando di scappare sormonta il corpo di Pasolini e lo uccide tra l'altro non una volta avrebbe sormontato anche un paio di volte prima di ucciderlo scappa a tutta velocità contro mano sul lungomare di Ostia viene fermato da una gazzella dei carabinieri che lo ferma e immediatamente lui scende io qui avevo la diapositiva scende e chiede ho perso il mio anello ora un ragazzo di 17 anni dopo tutto quello che gli è accaduto quella sera in particolare ha ucciso una persona sormontandolo anche con l'auto immediatamente chiede ai carabinieri appena fermato si preoccupa di aver perso il suo anello perché chiederete voi si preoccupa dell'anello ma è semplicissimo perché dicevo prima in un'epoca in cui i responsabili non venivano incastrati di omicidio con il DNA o le prove scientifiche ma con altri elementi quali o la confessione o le testimonianze Pelosi si autoaccusa si autoaccusa dicendo l'anello è così importante quell'anello che i carabinieri sono così preoccupati che fanno anche una relazione dicendo che mentre accompagnavano alle 4 di notte Pelosi da Ostia fino al carcere di Casal del Marmo minorile che sono altri 50 chilometri circa loro si fermano perché il ragazzo era disperato voleva quest'anello noi ci siamo fermati e abbiamo cercato sul bordo della strada con le nostre torce se ritrovavamo l'anello ora è inverosimile che dei carabinieri si metta a cercare un anello del genere ma la mattina alle 10 quell'anello viene ritrovato e viene ritrovato vicino al corpo di Pasolini guardate è così banale la cosa che sembra quasi elementare quasi ingenua ti chiedi ma come hanno fatto a costruire una cosa così banale perché questa è di una banalità estrema vanno vicino al corpo e trovano l'anello che tanto aveva cercato Pino Pelosi eccolo là vedete aveva ragione quindi l'anello è di Pino Pelosi Pino Pelosi cercava l'anello ha confessato che è stato solo lui il caso è chiuso nel TG delle 20 tutto il TG dedicato alla morte di Pasolini mandano in onda e leggono io guardate io mi sono andato a ricercare grazie poi a un'amica che è un Rai che mi ha dato anche la registrazione di quella puntata perché l'ho voluto vedere il TG perché ne parlava Marco Tullio Giardana nel suo film e nel suo libro io ho detto guardate tutto quello che io vi volevo far vedere questi reperti perché da me non sentirete niente tutto quello che ho detto chi mi vuole mi riscontra e mi dice scusi lei ha detto questo mi dà la prova di quello che ha detto oggi è vero io ho in studio tutto quello che vi ho detto cioè sono abituato a parlare per prove e su prove non sono abituato a dire delle cose che non hanno un riscontro oggettivo su quello che ho detto 1975 sono passati praticamente 50 anni e la domanda era perché ancora non sappiamo sostanzialmente quasi nulla di chi c'era quella notte di chi ha ucciso Pasolini e del perché o meglio diciamo che ci sono diverse piste ma quindi tu prima parlavi dei poteri più alto è il potere che si è toccato o è più difficile divenire una verità ma quindi c'è ancora qualcuno che ha qualcosa da perdere dalla scoperta della verità su questo caso no questo non lo posso dire mi riallaccia a quello che dicevo un secondo fa sul fatto non ho ovviamente le prove Pasolini diceva io so ma non ho le prove ecco io non ho le prove e non so nemmeno su questo se c'è effettivamente qualcuno che è ancora da perdere penso di no cioè non penso che ci siano ancora dei poteri in grado di depistare ostacolare la ricerca della verità quanto piuttosto il nemico principale è il tempo che scorre inesorabile era il 2015 che noi avevamo tre tracce di DNA ora ci arrivo il 2023 sono passati già otto anni e continuano a passare gli anni però sono fiducioso in un elemento l'elemento è il dato scientifico vi dicevo prima per chiudere il discorso del telegiornale viene letto tutto l'interrogatorio di Pelosi scusate viene letto l'interrogatorio di Pelosi scusate ma il problema degli avvocati è questo che sono sempre rintracciabili viene letto tutto l'interrogatorio di Pelosi parola per parola al telegiornale cosa che permette poi a chi era insieme a lui quella sera o altri di rendere quella stessa versione resa da Pelosi ma detto questo a distanza di 50 anni perché ancora secondo me è possibile quando e perché mi ostino a ricercarlo innanzitutto vi dico che anch'io vado in crisi lo ammetto pubblicamente ci sono andato nel 2020 grazie la persona che è qui presente poi mi ha detto non mollare c'era un'idea di Davide Grieco che è un mio amico che ha fatto un film con Massimo Ranieri molto bello che anche lui lui ha conosciuto però Pierpaolo Pasolini aveva 20 anni quando sente alla radio che Pasolini è stato ucciso prende il motorino e va a casa all'Euro e poi all'idroscalo di Ostia quindi Davide ha proprio vissuto questo fa un film con Massimo Ranieri dove parla di Cefis la macchinazione non a caso parla di Cefis e di tutto il resto e lui mi dice guarda Stefano secondo me devi scrivere un libro oltre a quello che hai già fatto nel 2011 sulla pista catanese perché poi tutto portava a Catania devi scrivere un libro perché un giorno ti hai fatto mille cose dal 2008 ad oggi un giorno perlomeno riaccendi i riflettori sulla vicenda sono 100 anni che è nato Pierpaolo ti devi scriverlo e io grazie a lui non me ne volevo più occupare poi alzare la mia compagna ho detto vabbè mi metto e scrivo questo libro riassumendo tutto quello che è stato fatto io una parte ve l'ho cercata di dire e cerco di dirvela stasera ma insomma ci sono in ballo c'è stata una commissione parlamentare di inchiesta che abbiamo sfiorato cadde il governo Renzi e non venne istituita c'è un'opposizione all'archiviazione che non ha trovato accoglimento nel 2015 ma noi abbiamo tre elementi fortissimi dalle indagini del 2010 abbiamo scoperto che sui reperti custoditi al museo criminologico e qui mi dispiace perché avevo le foto dove abbiamo trovato questi DNA dove hanno trovato il Rista trovato i DNA ecco magari Stefano spieghiamo sono gli indumenti di Pasolini la camicia di Pasolini i pantaloni credo indossati da Pasolini e forse gli occhiali le scarpe allora ci sono tutti gli indumenti sia di Pasolini e metto un punto esclamativo su Pelosi vi dico perché perché il DNA su Pelosi non è mai stato fatto e vi avevo portato anche questa immagine l'immagine del verbale resa da Vincenzo Pansironi vi direte chi è Vincenzo Pansironi Vincenzo Pansironi è il proprietario del ristorante Il Biondo Tevere dove Pasolini e Pelosi avrebbero mangiato come dice Pelosi quella sera Vincenzo Pansironi sentito il 2 novembre alle ore 17 circa che cosa dice dice che Pasolini era insieme a un ragazzo alto circa un metro e settanta con i capelli lunghi e biondi quindi dà questa descrizione di Pelosi che non corrisponde a Pelosi perché Pelosi aveva capelli ricci e mori qui avevo portato anche la foto di Pelosi non so quanti di voi se la ricordano di Ninetto Davoli da giovane quindi c'è il dubbio su Pelosi voi direte eh vabbè ma c'è stato mi ha detto il GIP questo mi ha scritto nell'ordinanza e mi hanno detto ma c'è un testimone che ha visto Pasolini e Pelosi al distributore appena usciti dal Biondo Tevere allora io ho indagato su chi era quel testimone è bravista hai studiato tantissimo Ubaldo De Angelis Ubaldo De Angelis non è uno comune perché è il proprietario del bar di via Chiabrera 122-123 dove la banda della Magliana si riunirà di lì a poco perché verrà costituita proprio di lì a poco la banda della Magliana e si riunirà per scambiare le armi custodite poi al Ministero della Sanità o fare altre attività Ubaldo De Angelis non è mai stato condannato per questo fatto ovviamente era soltanto il proprietario di questo bar ma Ubaldo De Angelis da due versioni mi dispiace perché è deceduto ma ha dato due versioni contrastanti nel 1975 e nel 2011 quando è stato risentito perché nel 75 era stato sentito presso il bar nel 2011 sostiene invece che la polizia andò a prenderlo e lo portò alla questura di Roma quindi questo è l'aspetto sconvolgente che Ubaldo De Angelis dà due versioni tra loro veramente incompatibili perché una persona che è salita sulla macchina della polizia penso se lo ricorda tutta la vita se non è un detenuto o ha avuto problemi con la giustizia mentre lui non si ricorda questo elemento che per me era invece è particolarmente importante e quando ha mentito secondo te e perché è importante questa differenza queste due versioni cosa significano? Allora io mi si è acceso un campanello una luce rossa diciamo così sulla banda della Magliana o sulla malavita noi prima dicevamo il movente allora per capire un delitto devi capire il movente può essere gelosia può essere reato passionale può essere una vendetta può essere un elemento un omicidio politico può essere vuoi fare scomparire un testimone il movente lo devi trovare se trovi il movente viene giù tutto a cascata è come la tessera del domino quindi riesci a risolvere il caso se trovi il movente ora il movente nell'omicidio Pasolini è la cosa più complicata da trovare perché è complicata perché io ho fatto questa teoria dei cerchi concentrici non è mia la definizione cerchi concentrici perché sia dalla strada di Bolone insomma la teoria dei cerchi concentrici è che chi agisce chi uccide Pasolini certamente non sapeva che facendo quell'omicidio ponendo in essere l'omicidio faceva un favore anche più alla sfera più alta ma la sfera più alta è quella che garantisce poi alla sfera più bassa l'impunità perché perché la sfera più alta non vuole che si sappia che è stato ucciso da dieci persone le dieci persone magari o le cinque persone che sono presenti hanno l'immunità e hanno e riesco a farla franca per tutti questi anni perché c'è una sfera più alta al quale invece va bene la verità di comodo che Pasolini è stato ucciso perché cercava un rapporto sessuale con un minorenne perché il caso si chiude e non si indaga più il problema su Pasolini è stato il non dover indagare la procura generale della Repubblica di Roma impugna la sentenza che condanna Pelosi e questo va detto che condanna Pelosi insieme ad ignoti solo per togliere la parola ignoti cioè non perché volevo una pena più alta per Pelosi o perché c'erano altre motivazioni solo per togliere la parola ignoti ed è una parola che la Corte di Appello con una sentenza secondo me illogica si dice nell'ambito giuridico togliela gli ignoti togliendo tutti i vari elementi addirittura il fatto delle lesioni del fatto che si erano usate strumenti molto più contundenti tipo catene perché per fare la lesione che viene fatta al cranio e questo me lo confermano anche i miei consulenti medici legali non si possono usare quel tipo di tavoletta ma si usano delle catene degli strumenti offensivi molto molto più da picchia allora ti chiedo due cose intanto dall'esame del cadavere di Pasolini cosa emerge in che modo è stato ucciso e poi tu hai fatto un riferimento e hai parlato di dieci persone era un riferimento così estemporaneo o effettivamente all'omicidio hanno partecipato più persone allora io sono convinto che abbiano partecipato ma è una mia convinzione personale molte persone non poche sicuramente dieci è un numero no no non dico dieci no è una buttata mia è un numero mio insomma diciamo che ho buttato lì sicuramente è un numero non erano pochi non erano pochi perché vedete anche Pino Pelosi che ha detto che per me è stato insomma ha contribuito solo a depistare poi alla fine perché vedete la cosa importante è che ci terrei molto a dire che tante volte escono indicazioni articoli il problema è tenere un filo conduttore sulla vicenda perché se si inizia a dire a prendere no siccome ci sono tanti aspetti dalle pizze di salò al fatto di chi ha partecipato ai fratelli Borsellino a Johnny Lozinga se si inizia ad andare per spot è come se voi aveste su questo tavolino migliaia di tessere di un puzzle che non riuscirete mai a mettere insieme francamente dopo tanti anni quelle tessere piano piano si vanno a collocare guardate anche per me è stato difficile e io non l'ho collocate tutte cioè mi mancano ancora io ho dei buchi investigativi enormi che spero che la procura della repubblica colmi ma ci sono sempre e appaiono sempre di più e la figura è sempre più chiara ad esempio è sempre più chiaro il fatto che noi abbiamo tre DNA confrontabili con persone della malavita comune o appartenenti a una destra eversiva romana tra l'altro legata poi anche alla destra catanese ai quali andrebbe confrontato voi direte ma non sono tutti morti potrebbe alcuni potrebbero non essere ma vanno effettuati questi riscontri va tentato secondo me di arrivare comunque ad una verità nel momento stesso in cui si dimostra si è dimostrato che esiste un DNA che non appartiene né al punto interrogativo Pelosi né sicuramente a Pasolini presente all'interno dei jeans una macchia di sangue all'interno dei jeans di Pasolini un plantare non portava né Pelosi né tantomeno Pasolini plantari un plantare che non c'era e viene rinvenuto sull'auto poi riportando un DNA anche questo e infine una maglia di lana con una traccia di DNA mista mista significa che c'è DNA sangue di una quarta persona e sangue di Pasolini quando c'è una traccia mista significa che effettivamente è stata compiuta sul luogo del delitto perché è impossibile mischiare due sangue perché io mi immagino il difensore magari se arrivasse a un processo futuro di chi hanno trovato una traccia del plantare mi potrebbe dire va bene ma quel plantare non c'era mi dovrebbe spiegare perché si trovava sull'auto di Pasolini ma si potrebbe tirar fuori qualsiasi cosa se non c'è un legame certo quindi questi tre noi partiamo a distanza anche di tanti anni e questo che io sto cercando di sforzarmi con la procura di Roma a farlo comprendere e fortunatamente devo dare e qui ve lo do in esclusiva Bacoli perché è uscito ieri su tutti i principali testati giornalisti che l'avrete visto però qui lo confermo insomma l'ordine dei giornalisti del Lazio mi ha dato mandato si è costituita persona offesa dal reato su mia indicazione io ho dato questa indicazione Pasolini era anche giornalista giornalista pubblicista la tessera venne rinvenuta nei reperti quando si sono aperti questi due grandi scatoloni nel 2010 presso il RIS il carabinieri del RIS che per me è stata un'emozione enorme perché si sono aperti questi due grandi scatoloni e c'era di tutto c'era la camicia Missoni usata per tamponare il sangue che fuoriusciva dalla testa di Pasolini c'erano i vari indumenti i jeans come andavano di moda allora c'era il libretto dell'autovettura c'erano tutti elementi tanti elementi particolari che appartenevano a Pasolini ecco stavo dicendo sui reperti e ho perso il filo un attimo sulla riapertura ok ho consigliato allora il problema grosso di questo caso qual è noi non abbiamo i familiari ok io ho rappresentato Guido Mazzon dal 2010 al 2015 il cugino adesso non c'è in questo nuova riapertura fatta da David Grieco e Giovanni Giovannetti che sono appunto due David Grieco regista sceneggiatore e giornalista Giovanni Giovannetti giornalista autore anche lui ha fatto un libro bellissimo Mala Storia su Pierpaolo Pasolini su tutto l'omicidio e sulla ricostruzione dal dopoguerra d'oggi tra l'altro lo consiglio questo perché riabbraccia tutto è una ricostruzione puntuale di tutta storica anche e che cosa ha fatto l'ordine dei giornalisti del Lazio si è costituita persona offesa questo che cosa significa che c'è una persona offesa nell'omicidio per Paolo Pasolini se la procura della Repubblica ancora una volta chiederà o dovesse riaprire e chiedere l'archiviazione l'ordine dei giornalisti potrà potrà proporre opposizione e poi mi dà molta forza in più devo dire anche moralmente ve lo confesso perché delle volte mi sento un po' Sancio Pancio o Don Quixote contro i mulini al vento sembra che te ti stai precostituendo incaponendo su questa vicenda come se non ci fosse un domani in realtà secondo me un domani ci può essere se si parte dal livello più basso cioè iniziamo ad indagare su gli esecutori poi saliamo perché se l'omicidio è stato bollato come un omicidio sessuale perché c'era una sola persona un ragazzo nel momento in cui si hanno più DNA non è più un omicidio sessuale cambia cambia che cosa e qui si introduce l'elemento nuovo che è venuto fuori si diceva prima dalla commissione parlamentare di inchiesta antimafia perché già nel 2015 avevo chiesto che venisse fatto una determinata azione ossia venisse sentito anche tra gli altri quello colui che è stato sentito dalla commissione parlamentare antimafia Maurizio Abbatino l'avevo sentito l'avevo chiesto poi è stato sentito successivamente e lì si apre l'altro filone facciamo un passo indietro proprio anche per spiegare allora tu giustamente hai detto e abbiamo capito che ovviamente non è plausibile che Pelosi e Pasolini siano andati all'idroscalo di Ostia soltanto per consumare un rapporto sessuale all'idroscalo di Ostia c'era qualcosa dovevano essere spinti da qualcosa e qui veniamo a quello che potrebbe essere la trappola che ha tirato Pasolini all'idroscalo di Ostia cioè il recupero delle pizze di salò però ti chiedo anche di una cosa tu hai detto giustamente si si no no lo spieghiamo lo spieghiamo lo deve spiegare spiega lui tranquillamente però mi ho reso fermare anche su un altro elemento tu hai citato tra i reperti famosi di quello scatolone il plantare e perché è importante il plantare il plantare è importante perché riconduce direttamente a quel ecco il famoso i famosi reperti riconduce a quel verbale di Vincenzo Panzironi a quella descrizione di quel ragazzo che non è assolutamente somigliante a Pelosi che quella sera aveva cenato con Pasolini al biondo TV dunque allora sì allora c'è il dubbio su Pino Pelosi sulla partecipazione che mi ricordo ancora nel 2011 durante la presentazione del primo libro nessuna pietà per Pasolini Pino Pelosi l'ha ricordato Veltroni il 3 marzo quando ho chiesto l'ultima riapertura Veltroni che ha appoggiato l'iniziativa insieme a Dacia Maraini perché questo mi ha fatto molto piacere sia Veltroni che Dacia Maraini Veltroni sul Corriere della Sera Dacia Maraini sulla stampa hanno appoggiato l'iniziativa di riaprire le indagini si arrivi finalmente alla verità su questo omicidio eh è questo insomma è quello che ci auguriamo tutti e il plantare sì è inverosimile che sia appartenuto sia a Pelosi che a Pasolini lo dicevo e questo è il primo aspetto ma perché Pasolini ti dicevi giustamente sarebbe andato all'idroscalo di Ostia questo era quella tessera che vi dicevo che ci mancava ci mancava ci mancava parzialmente perché erano venute fuori già da tempo le pizze il furto delle pizze di Salò allora pizze di Salò siamo nella terra della pizza ma non c'entrano niente con quello che voi fate egregiamente le pizze di Salò sono praticamente i filmati prima venivano fatti le bobine le famose bobine dei film prima venivano fatti come sapete su pellicola la pellicola cinematografica non c'era il digitale c'era la pellicola e la pellicola era la pizza era questo cerchio enorme di pellicola che veniva messa ovviamente al cinema e si sentiva anche quel rumore di sottofondo era l'altro il proiettore e quant'altro vengono rubate delle pizze dei film tra queste c'è quelle di Salò qui dietro a me vedete Salò le 120 giornate di Sodoma migliore rappresentazione non poteva essere fatta vengono rubate le scene finali di questo film e non è un film casuale perché voi vedete già il ragazzo che la rappresenta forse col braccio vengono rubate della Tecnicolor via Tiburtina dove veniva custodita a Roma ed è molto importante perché Pasolini teneva particolarmente a quelle pizze ora poiché Niconaldini il cugino uno dei cugini di Pasolini in una precedente archiviazione aveva detto che Pasolini non teneva a quelle pizze io ve so più cocciuto dei mattoni che cosa faccio convoco a studio nel 2011 Ugo De Rossi che era il montatore che aveva fatto il lavoro aveva fatto Salò le 120 giornate di solo lo convoco a studio e gli dico scusi tanto ma può spiegare se Pasolini aveva interesse a recuperare queste pizze oppure no e Ugo De Rossi mi dice ma come non aveva interesse aveva sì interesse io ho dovuto fare un miracolo per chiudere quel film senza quelle pizze perché loro facevano in una stessa scena più riprese ho dovuto prendere i cosiddetti doppi di scarto e Pasolini ha praticamente montato il film abbiamo montato il film con questi doppi di scarto quindi con scene che lui non avrebbe utilizzato lui era un perfezionista a modi di sconti avrebbe utilizzato altre scene utilizza quelle scene perché non ha gli originali e allora noi abbiamo ora le prove che Pasolini viene attirato venne attratto all'idroscallo di Ostia per ritirare quelle pizze perché ci abbiamo la testimonianza di Sergio Citti ci abbiamo la testimonianza di un barista che si trova a Piazza della Repubblica in un bar dove va un ragazzo al telefono e dice te lo portiamo a che ora guarda te lo portiamo lì Pasolini Gianfranco Soggio bravissimo ha studiato tantissimo hai letto tantissimo non solo quello tutto c'è questo Gianfranco Soggio sentito nel 2011 lui se lo ricordava era stato sentito dalla Fallaci tra l'altro perché la Fallaci che fa fa un'opera incredibile ecco una vera giornalista di inchiesta la Fallaci fa un'opera incredibile di raccolta delle prove quindi va a cercare le varie prove va a sentire all'idroscalo sente un ragazzo attraverso Mauro Volterra altra vicenda l'incredibile perché voi sapete che l'assistente di Oriana Fallaci che aveva sentito un ragazzo un ragazzo di vita che aveva detto però io non voglio figurare qui e là Mauro Volterra muore in un presunto suicidio e anche lì c'è tutta una storia tra l'altro giovanissimo questo ragazzo c'è una storia veramente inquietante sotto nella morte di Mauro Volterra che precipita dalle scale insomma è particolarmente dubbiosa come morte vabbè comunque c'è questa vicenda e quindi a Pasolini viene proposto di recuperare queste pizze all'idroscalo di Oster qui si inserisce quello che dice Maurizio Abbatino alla commissione parlamentare d'inchiesta che io non sapevo antimafia perché Maurizio Abbatino che cosa dice e come è riportato dalla commissione parlamentare d'inchiesta dice che quel furto fu un furto commissionato al quale lui avrebbe partecipato questo dice la commissione questo c'è nella relazione allora io leggendo questo ovviamente penso immediatamente di dire riapriamo l'inchiesta su questo risentiamo sentiamo almeno Maurizio Abbatino su questo perché commissionare un furto sì è vero che chiese l'estorsione ma se ci fosse qualcosa di diverso sotto perché un furto del genere andava commissionato aggiungo un altro particolare la stessa nello stesso furto delle bobbine di salò sono rubati sono rubato anche un altro film un'altra pizza di un film che è un ladri due compari un pollo di Damiano Damiani e non risulta che sia stata fatta il cosiddetto cavallo di ritorno per le pizze quindi è proprio è mirata sì è una considerazione corretta questo e quindi c'è questo questo discorso di scoprire attraverso la testimonianza dell'Abbatino di vedere un attimo il perché viene commissionato e da chi lui fa anche il nome da chi avrebbe commissionato questo furto delle pizze quindi investigare di nuovo questo versante che secondo me è molto molto importante perché c'è lo scopo del perché chiuderebbe il cerchio sul fatto perché va all'idroscalo di Ostia allora a quel punto se è una trappola vera e propria è un omicidio capite bene premeditato nel senso si viene attirato all'idroscalo di Ostia con la scusa delle pizze del film dopodiché viene dato una lezione andava fatto ma che cosa poteva suscitare la lezione guardate c'è un altro aspetto che è legato a questo film perché questo film metteva in ridicolo veramente in ridicolo Salò e regime fascista questo è un film terribile non so chi lo ha visto però è un film molto forte tra l'altro e lì potrebbe essere ovviamente andrebbe investigato anche su quel versante sul perché poteva essere tale da rubare quelle pizze che il messaggio si voleva dare anche con quel furto di quelle pizze perché quel film magari non sarebbe dovuto uscire o quant'altro questo è un altro aspetto che sicuramente per me andrebbe investigato è stato un omicidio sicuramente molto efferato e per Paolo Pasolini non era esattamente di indole placida si è difeso cosa racconta la scena del delitto allora non ci sono tracce evidenti di difesa e questo è un altro aspetto perché Pasolini era uno invece che si sarebbe difeso e come si sarebbe difeso aveva giorno precedente già si era difeso da solo era una persona dall'altro non torna anche questo l'uno contro uno con un ragazzo di 17 anni perché Pasolini addirittura riusciva a giocare due partite a 90 minuti di calcio era un patito della forma fisica era attentissimo alla dieta fisica atletica non molto grande non molto grosso ma un fisico molto atletico asciutto non ci sono segni di difesa almeno da un punto di vista medico legale non ci sono segni di difesa anche il discorso di dire che venne immobilizzato subito con questo calcio molto forte dato allo scroto è un discorso che non regge perché poi Pasolini si muove perché l'auto viene rinvenuto molto distante dall'auto e ha tentato la fuga ha tentato di scappare e le parole insomma sentite da quelli delle baracche vicine era questa implorazione questo richiamo a sua madre qualcuno dice di averlo sentito proprio che gridava mamma ecco questo è il punto però c'è stato sicuramente questo grosso diceva massacro sì effettivamente giustamente il titolo è giusto si è trattato di un massacro vero e proprio perché è stato massacrato di botte prima ed è morto lo ripeto perché è sormontato dalla sua auto che schiaccia la cassa toracica e quindi c'è l'implosione del pericardio a proposito di questo c'è una storia che è passata un po' sotto silenzio che però a me personalmente sono non lo ammetto tranquillamente appassionato molto di questo caso ho letto tanto ho studiato tante carte eccetera la storia della morte di Olimpio Marocchi che è veramente è veramente una cosa inquietante lo spiego Olimpio Marocchi era il figlio di uno degli occupanti delle baracche dell'idroscalo e il padre il nipote cioè lo zio lo zio che era Salvitti giusto Salvitti che era stato uno dei testimoni sentito a caldo da Furio Colombo inviato della stampa che Furio Colombo scrive sulla stampa riporta questa testimonianza ovviamente senza nome che dice sì l'hanno massacrato in tanti poveraccio urlava invocava aiuto però io non lo dirò mai che siete matti io lo vado a dire al magistrato dei carabinieri ecco ci dici questa cosa di questa storia di Olimpio Marocchi di di Pelosi dell'incidente che è una cosa inquietante io passerei qui come complottista perché qui non ci sono veramente prove però è un fatto che esce sul messaggero un articolo che riporta questa vicenda cioè riporta che il nipote avrebbe riferito quanto detto dal nono che venne massacrato e quant'altro Olimpio Marocchi diventa l'amico di Pino Pelosi e si trovano insieme sul raccordo anulare ora io non ho approfondito il fatto però si trovano insieme sul raccordo anulare quando si verifica questo incidente mortale per Olimpio Marocchi e trovano Pino Pelosi che cammina sul raccordo anulare non so se è ubriaco tra l'altro sì un processo ha subito poi non lo so perché che come è andata a finire la vicenda perché francamente subisce però un processo anche per un micidio colposo andrebbe chiesto all'avvocato Livieri insomma che ha sempre seguito storicamente Pino Pelosi però trovano il leso e qui però apro mi dai lo spunto per aprire un altro parentesi non vi posso dire tutto sul libro ma questo ve lo dico da chi viene difeso Pino Pelosi è perché ho detto l'avvocato storico ma quando uno parla di Eugenio Cefis parla di P2 ho detto prima ricollegato al fondatore della P2 dall'altra parte però chi circonda Pino Pelosi durante il processo Pino Pelosi viene difeso guardate il primo interrogatorio c'è un avvocato d'ufficio tal Pier Giorgio Manca che ancora esercita ho visto questa mattina a Piazza dei Clodi difende Pino Pelosi un difensore d'ufficio dopodiché arrivano due spaltri che mandano due telegrammi subiscono anche un procedimento disciplinare dall'ordine degli avvocati di Roma come accaparramento di clientela perché mandano il telegramma per essere nominati e volevano assolutamente che Pino Pelosi non dicesse che fosse stato lui volevano che ritrattasse assolutamente tutto cambiare linea difensiva un giornalista salomone del tempo iscritto alla loggia massonica P2 va almeno detto questo da Pino Pelosi lo riferisce lui nel suo libro sarebbe andato dai genitori di Pino Pelosi e gli avrebbe detto guardate nominate un avvocato che vi dico io che si chiama Rocco Mangia fate nominare questo avvocato non vi preoccupate dei soldi fate nominare questo avvocato a vostro figlio Pino Pelosi nomina l'avvocato Rocco Mangia Rocco Mangia è un avvocato legato all'estrema destra che aveva difeso anche i massacratori del Circeo non so se sapete tutta la vicenda delle due ragazze una viene uccisa entrambi violentate una viene uccisa dall'altra l'altra riesce a farla franca a salvarsi soltanto perché si finge morta Rosaria Lopez bravissimo si finge morta e quindi si salva e allora Rocco Mangia è il difensore il difensore che invece dice ti devi attribuire la linea difensiva è quella della confessione vicino a Rocco sempre a Pino Pelosi c'è un altro personaggio inquietante che è il consulente Aldo Semerari uno psicologo che sarà poi legato alla banda della Magliana sarà uno dei fiduciari della banda della Magliana e torna questo morì poi decapitato dalla Camorra Semerari iscritto iscritto anche lui dalla loggia massonica P2 ora tutte queste coincidenze direte voi ma erano tutti iscritti in quel periodo no non erano tutti iscritti aveva fatto negli anni 60 alla metà degli anni 60 una perizia in un processo contro Pasolini era il processo per la famosa rapina per la famosa accusa di rapina del mitra della foto di scena di Carlo Lizzani Pasolini avrebbe fatto una tentata rapina a un benzinaio è bravissimo vicino a Latina con un proiettile d'oro era stato riconosciuto perché avrebbe usato un proiettile d'oro sapete in verosimiglianza Pasolini ha subito veramente processi su processi ma questo è veramente il più assurdo che si sia stato viene accusato di aver tentato una rapina a un distributore con un proiettile d'oro e Aldo Semerari fa una cosa che non si fa nei processi fa praticamente una consulenza psichiatrica su Pierpaolo Pasolini sull'imputato per dimostrare la sua pazienza è fatto poteva essere capace soprattutto la sua depravazione quindi doveva dimostrare questa e fa questa consulenza quindi vi rendete conto quale fosse il clima ora se noi non ci riponiamo nel clima che c'era nel 1975 non riusciremo mai a comprendere effettivamente come siano andate le cose io non so se poi vogliamo lasciare le domande al pubblico direi cominciamo a tirare le fila di questo primo incontro intanto vi ricordiamo che questo è solo il primo di una serie di incontri che terremo in questa stessa bellissima location il prossimo appuntamento è giovedì 15 non vi dico molto ma si parlerà di Maradona che c'entra Maradona con il giornalismo di inchiesta c'entra e capirete perché potete anzi vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube dove troverete anche l'incontro di questa sera appena avremo modo di caricarlo e dove trovate tante altre cose interessanti e a questo punto io chiederei se ci sono domande da parte del pubblico è il momento questo per farlo quindi alzate la mano se non siete timidi e se siete timidi andiamo in conclusione per conto nostro sono timidi ma brevissimo noi come comune di Bacoli l'anno scorso abbiamo fatto una mostra su degli eventi su Pasolini degli eventi su Pasolini conclusivo con Dacia Maraini che è cittadina onoraria di Bacoli tra l'altro un conferimento dato un bel po' di tempo fa se si dovesse andare per un'ipotesi che ci sono vari tipi di 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 moventi se dobbiamo cavalcare l'ipotesi dell'omicidio di natura politica ok motivo politico da dove dovremmo partire cioè è soltanto il riferimento al film diciamo salò oppure c'è qualche altro appiglio su questo sotto questo aspetto non mi sono spiegato dunque potrebbe essere sicuramente il il là ok quello che ha dato l'inizio a tutto ma sotto a questo non è un unico movente i cerchi concentrici non hanno un unico movente nel senso che l'esecutore ha un movente che è diverso magari da quello che sta nella sfera più alta più alta ancora i moventi sono vari sicuramente ci può essere il movente di chi vedi Eugenio Cefis poteva vedere Pierpaolo Pasolini come un personaggio scomodo ma lo vedeva personaggio scomodo magari anche qualche altra personalità se non anche al di fuori del nostro territorio nazionale noi non ci dobbiamo dimenticare che cosa si è arrivati a fare per rimanere nell'ambito d'Italia nell'ambito della Nato cosa c'è dietro la strategia della tensione gli omicidi che sono che sono stati purtroppo commessi perché uno status quo rimanesse così il nostro paese aveva una posizione strategica fondamentale sia per gli Stati Uniti che per l'Unione Sovietica ed erano pronti a tutto ci fu un colpo di Stato cioè questo bisogna dirlo ma ci fu un tentativo di colpo ci sono stati colpi di Stato poi che non sono andati avanti perché non sono andati avanti perché per l'improvvisazione di qualcuno perché poi alla fine il regime democratico ha prevalso ma ci sono stati nell'ambito io dico dal dopoguerra fino agli anni fino agli anni 90 quindi c'è stata la volontà precisa che tutto ciò che poteva portare una destabilizzazione ma pensate soltanto alla vicenda dell'onorevole Aldo Moro tutto ciò che poteva portare una destabilizzazione politica poteva portare a uno sconvolgimento degli equilibri politici doveva essere fermato alla radice cioè questo ce lo dobbiamo dire cioè la cosa che a me sorprende ancora a distanza di tanti anni perché ne sono passati tanti c'è stato provvedimento del governo Renzi di desecretazione e guardate vi assicuro che è difficilissimo andare a vedere i documenti io ho una persona che sta controllando dall'archivio di Stato e stanno uscendo anche delle cose interessanti ma per controllare all'archivio di Stato i documenti dei secretati diventa una missione impossibile è un dedalo di documenti e non ci arrivi per catalogazione per il modo in cui vengono conservati per documenti anche mancanti o di difficile lettura guardate che è difficile e quello che non capisco è perché dopo tanti anni noi ancora siamo ostinati a non voler aprire quegli armadi sono stati aperti gli armadi venivano detti della vergogna sulle stragi naziste in Italia sono stati aperti quando però? stragi commesse nel 43 per caso sono stati negli anni 90 io ne sono tra l'altro anche lì vuoi dire si è occupato di tutto parte da lì la mia storia giudiziaria dalle fosse ardeatine e per caso sono stati aperti ma con persone che il tribunale militare dichiarò nel processo Kappler nel processo Kappler come persone irreperibili in realtà quelle persone almeno quella conosciuta da me si trovava ai castelli romani quindi aveva residenza ed era addirittura indicata nell'elenco telefonico italiano vennero bollati come irreperibili questo che cosa vi dice può significare può significare che alcune verità non vogliono essere evidentemente scoperte diciamo così io penso che nel 2023 in un periodo in cui c'è oramai un'informatizzazione una socializzazione internet ringraziando veramente ha reso può rendere anche più democratico questo paese che lo è già per gran parte ma lo può rendere ancora di più ma la circolarità delle informazioni adesso è fondamentale cioè io francamente vorrei prima di passare a miglior vita faccio i dovuti gesti esatto scaramantici io vorrei arrivare a sapere effettivamente che cosa è accaduto dal 70 ma con certezza dal 70 al 90 che cosa è accaduto in quegli anni e chi c'è dietro le strage e perché soprattutto si è depistato fino a tal punto da non farci capire niente e da continuare a cercare così come tanti artigiani di arrivare alla verità tutto qui eh beh questa è condivisibile tra l'altro aggiungo a rinforzare il discorso di Stefano che la la teoria dei cerchi concentrici che poi secondo me non è una teoria è una spiegazione logica ed è una spiegazione anche che rende si può applicare in tanti casi italiani soprattutto nel caso Moro la differenza con l'omicidio Pasolini è che con Pasolini non c'è una firma di un'organizzazione nel caso Moro c'è la firma delle Brigate Rosse però in realtà c'è una firma come dire ufficiale no? che non scardina e tra l'altro particolare che forse pochi sanno ma che spiega anche quello che diceva Stefano quando muore Pasolini l'unico politico a mandare un telegramma di cordoglio alla famiglia è Aldo Moro nessuno nessuno dei politici parlamentari o anche non parlamentari dà un messaggio di cordoglio alla famiglia del poeta solo Aldo Moro e penso che non sia un caso che questi due grandi personaggi che hanno segnato la storia d'Italia siano stati accumulati da una morte tragica devo aggiungere una cosa poi vi lascio io ho avuto la fortuna di conoscere il figlio di Aldo Moro che è un caro amico Giovanni e che mi ha consentito tra l'altro di vedere sempre presso il RIS oltre ai reperti di Pierpaolo Pasolini anche la camicia e il gilet di Aldo Moro che indossava nel momento in cui venne ucciso perché la commissione Fioroni andò a riesaminare quei reperti e vi devo dire che è stata un'emozione incredibile vederli perché insomma ti riporta in quel momento ti riporta proprio il vedere il reperto la cosa in sé per sé ti riporta al momento in cui è accaduto e quindi hai veramente una sei trasposto di nuovo nella storia torni indietro e questo ti do perfettamente ragione sulla firma lì c'è stata bisogno della firma ma poi sappiamo tutti non apriamo un capitolo ecco sono l'omicidio se no stiamo qui e poi appare poi esatto sicuramente alveggio non apriamo quel capitolo che è già un'altra sofferenza io se non ci sono non so altre domande allora sì non apriamo altri capitoli perché ne abbiamo già aperti abbastanza è stata una bellissima domande ok è stata una bellissima chiacchierata abbiamo rotto il ghiaccio qui nel nel parco Cerillo e vi ricordo che laggiù potete acquistare il libro dell'avvocato Maccioni che è a disposizione se volete farvi firmare il libro e vi ricordo Dark Side storia segreta d'Italia seguiteci e scoprite con noi cerchiamo di scoprire insieme i tanti lati oscuri della nostra storia